Ciao e bentornati in questa nuova puntata di Paperissima LOL con noi, noi LOL, con gli errori di Barbara e anche di quell'altra e un unboxing carino e una marea di pack surprise, i vostri pacchettini che ci mandate alla casella postale Ah, che bello! Oggi sono praticamente sola e me la faccio tutta da sola Lollina? Eh? Guarda Cosa c'è? Chi ti sta reggendo? Tu Quindi? Vabbè sì, c'eri pure tu però un po' di sospensione dell'incredulità non fa male Lollina, ce l'abbiamo tutti la sospensione dell'incredulità perché tu parli Quindi? Vabbè ho capito, scusa, non lo faccio più No, Lollina, vabbè dai Allora ragazzi, eccoci qui a Paperissima e adesso ci sarà la sigla delle nostre veline Ma Showbaby ancora non c'è E allora che sei tu, chissà dove l'ha messo Guarda, secondo me è Lara, chissà dove l'ha messo lei Lara, dove hai messo Showbaby? Non lo so E vabbè qua le Lolle si perdono, si ritrovano, passa che non perdete me Sia mai Lollina Quindi vabbè facciamo così, le nostre veline di oggi, quindi sono Foxy e Peppa Eh, mi sa di sì Peppa Ma che c'è? Scusami, ma vuoi fare la velina? Ma certo sì, vorrei ampliare i miei orizzonti e quindi visto che sono bravissima a ballare vorrei fare anche la velina Ah, e mi faresti vedere un po' come balli? Che sarebbe? Sta facendo la spazzolata di Fortnite Dai Peppa Vallo Vabbè dai Allora, ehm Sigla! Non diteglielo che la sigla è registrata e c'è quell'altra, così almeno credi di aver ballato lei Sigla! Ballato, come sono stata? Bravissima, brava, guarda, veramente brava, sembravi l'altra Oh, che bello, grazie, eh, grazie mille Metti sul divano, va Ecco, sì, c'è cascata a posto Ok, adesso? Papere Eh sì, adesso ci sono un po' di nostri errori Ma Stella? Sì? Ti si messa un cappellino? Sì, come mi sta? Sei elegantissima Me l'ho apprestato a Witchy Bebe Oh, però io avrei preferito un panino Guarda, c'è Lele che sta mangiando Cosa, cosa? La pizza? Posso averla? Con i broccoli e la salsiccia, posso? No, no Ma è una gioia? Eh, ha avuto il cappellino Vabbè, mi accontento E allora papere? Sì, ragazzi, papere Non ho capito Che è questo momento di risata? Pensi di aver finito? Eh, mo' basta però, eh Barbara? Sì, che cosa c'è? La puoi picchiare? Potrebbe essere un'idea Me la reggi, ferma Eh, sono piccola Lasciala stare L'hai visto il ginocchio duro Che mi fai male I lividi mi fai Le registriamo? Prendi la forbice Basta, non mi fai male Eeeh Ti ho guardato Non mi fai male Il telefono si rifiuta De riprende te Ciao 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 Ciao, lo devo fare Eh? Topo, ragno Esci dalla zuppa Sta ridendo Alice? Eh, mi sa di sì Ah, allora ogni tanto È con noi Eh, sì Alice? Sì Stai ridendo? Uh, uh, sì Ah, eh, ma ridevi Per le papere? No E allora per che cosa Stavi ridendo? Eh, c'era un pezzo lì Del pavimento Veramente divertente Come non detto Uh, uh Ok, ragazzi Passiamo all'unboxing Di oggi Ci è arrivata questa scatolina Vediamo com'è Si chiamano Mini Florali Ce l'ha inviata Deramix E c'è scritto Grande Campagna TV 3,99€ E questo è un display Completo da 12 pezzi Andiamo a vedere Come sono fatte dentro? Sì, cosa sarebbero? Eh, direi bamboline Che dici? Beh, sì, in effetti A forma di fiore Sì, a forma di fiorellino Apri, 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 apri Ok Oh, guarda Quanto sono messe carine Sono delle rose Sono dei boccioli Sembrano più tulipani Che rose Perché come tipo di corolla Sembra, ricorda Quella del tulipano Carine E dentro Eh, guarda Si vede dentro La bambolina Ok Poverina Ma sono delle teste Dentro i petali Cioè, com'è la bambolina No, questo si tira giù E diventa una bambolina Allora, sbrigati E apri, apri, apri Parto da quest'azzurro Ho tolto lo scotch Che è appunto La mia passione Eccolo qui Si toglie il sotto Si stappa No, che c'è Ok Eccolo qua E si regge Penso così Quindi Diciamo che se è chiusa Non ha una grande funzione Nel senso che O la incastri O non si sta Non ha una funzione Apriamola Bisogna far scorrere così La connellina Credo Ma che bella faccina Che hanno Eh già Lara ne ha già Aperta una Invece io vi farò vedere Quanto è semplice E immediato Veramente Comodissimo No One hour later Zitta Lollina Ok Ce l'ho fatta Penso che non le risvolterò Mai più Dopo averlo fatto Allora E c'è un'altra pellicolina Qui Una pellicolina Che non è scotch Una pellicolina Sono con una piccolissima forbice Dedicata Delicatissima Enorme Esattamente Ok Che non taglia Cioè Cento metri di forbice Che non Ce l'ho fatta Evviva Allora Eccoli qui Da vicino Adesso ve la metto Un po' a fuoco Questa sembra spaventata Sta dicendo Bada Che sta succedendo Qui Ma dove sono capitata Pieno di pazzi Scappo Invece quella di Lara Ma che l'hai richiusa Ma no Adesso ho due ore Per ritirarla fuori Proviamo Anche lei ha la faccina Un fiorellino per te Meno spaventata Un fiorellino per te Ne ho scartate quattro Come vedete La trasformazione magica Che dice È abbastanza Difficoltosa Però ce l'abbiamo fatta Allora Sono molto carine Il visino È adorabile Hanno questa faccina Veramente carinissima Ve la riesco a far vedere Ancora forse un po' Guardate Anche se hanno questa faccia E queste mani Che sembrano veramente Preoccupate E spaventate Sono profumate È vero E hanno anche dei profumi Piuttosto gradevoli Molto buoni Alcuni sanno di Bubble gum Altri sanno di Frutta O altre cose Però veramente Il profumo è molto Molto buono Hanno tutte quante Questa coroncina Che è morbida E gommosetta E hanno tutte quante I capelli piuttosto lunghi Allora Costano 3,90 euro E sono un giocattolo Quindi secondo me Sono abbastanza giocabili Certo Sono tutte uguali Tra di loro Cioè non è che hanno Delle particolarità Quindi fondamentalmente Cambiano un po' i colori Un po' i vestiti Ma sono sempre la stessa bambola Quindi Non mi sento di dirvi Di fare la collezione Perché ovviamente Sempre Noi diciamo di non fare la collezione Comunque sia Ricordatevi sempre Che le cose che comprate Hanno un costo E il costo È il tempo Dei vostri genitori Che impiegano Per comprarvelo Quindi insomma Non fate i capricci E fatemene regalate una Perché è tanto carina Però insomma Secondo me Un paio Bastano e avanzano Insieme a questo Queste Fiorelline Queste Florali Mini florali C'è anche un magazine Che però io non ho trovato Nella busta Quindi so che c'è il magazine Ma io non ce l'ho Mi raccomando voi Fatevelo dare Ok Detto questo Che dici Passiamo ai pack surprise Sì Vai Pack surprise E lo apriamo Uno due tre Primo strato Wow Un pack surprise Stratificato Primo strato Sette strati di pack surprise Allora Io vedo queste cose Non so se si sono mischiate Oppure no Carta stagnola Oh che carino Oh my little pony Poi Oh my little pony Che carini Che sono Un altro Un altro Un altro my little pony Allora andiamo avanti Secondo strato Sentite questo rumore Sweets Gbr Gbr Glitter Stratificato Stratificato Le ho fatto io Poi dopo Ho lasciato per Dedicarmi al mio canale Perché non riuscivo con il tempo Però insomma Anche io ho un canale youtube Ma dai Una youtuber Si chiama Slime Più storie e giochi Ragazzi Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale di Lorenzo O O Che cos'è Oppure Un altro canale Si chiama Lorenzino 1 E mi possono salutare Lollina dove è finita Eccomi Ciao Lollina e Alice 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 Dai Ma ciao Ecco un gioco Se sei felice Colore Per cui ci sono Alice e Lollina Allora vediamo un po' Domande Lara e Barbara Per Lara Quanti anni ha? 9 Porti l'apparecchio Si Adesso tra poco lo toglie E il 18 febbraio Lo toglie Penso che sarà felicissimo Ma la dovrà portare solo di notte Fai una scuola di danza? No 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 Lei ha Non ho fatto Ha fatto solo un po' di ginnastica artistica Però non ho fatto mai Queste scuole Danza No Non ho mai voluto Ha fatto ginnastica artistica Ha fatto atletica E adesso sta facendo nuoto Loll preferita? Lollina Video preferito? Non lo so Loll preferita A parte Lollina e Alice Non lo so In questo momento non c'è Perché è scesa giù a nuoto appunto Per Barbara Quanti anni hai? 40 Loll preferita? Lei Video preferito? Allora Dei miei video Io adoro tantissimo Cenerento Loll Perché è la prima favola La prima volta che appunto Rivisitavamo una storia Una favola classica In chiave Loll Ed è stato Bello Amo tantissimo Quel video Anche perché comunque Esce la nostra vena Di parodia Insomma Fa ridere Mi piace tanto Non so che dirvi Però adoro quel video Anche Rapunzel Le piace tanto Però insomma Forse è quello Loll preferita A parte Lollina e Alice Loll preferita A parte Lollina e Alice Mi piace molto Baby in the Woods Quella ha la cappuccetto rosso E che altro? Ne ho tante Ne ho tante Unicorn Mi piace molto Flower Child Mi piace molto Loll preferito Forse è panchino Perché mi fa ridere Il suo carattere Però anche Scribola È fighissimo Finite Perché? Motivi per seguirvi Perché sono divertenti Perché sorridono Perché ci stanno le LOL Perché c'è Master LOL Perché ci sono le storie C'è Paperissima C'è Lollina Perché aprono LOL Perché fanno le challenge Perché ci stanno le lettere Sono molto contenta Che abbiate così a cuore La rubrica della posta E vi rinnovo E vi dico sempre Iscrivetevi anche al canale La posta di BabuChamel Perché appunto lì Ci sono milioni 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 Di letterine All'Alice Punk Boy Il rocker E qua C'era una volta Un LOL Molto bello Si chiamava Punk Boy Che stava Insieme A Lollina Yeah Della famiglia Di Barbara e Lalo Un giorno Punk Boy Si mise Insieme Ad Alice Sta scherzando Vero Penso sia una storia Alice Cosa c'è Alice Che cosa ci fai Con il mio fidanzato Ma che stai Dici Questa è impazzita Allora Lollina Si arrabbiò Tantissimo Ti credo Poi rocker Un'amica di Lollina Le dice Al TG LOL Un giorno Punk Boy Si sposò Oh mamma mia Sai come finisce Questa storia No Non basta Maria io esco Ma no Ma è quella che è Solo una storia Ma chi se lo fila Il tuo fidanzato Dici No è tutto tuo Ah Me l'ha preso un colpo Ah Lollina Ho trovato il seguito Eh Come sarebbe Si sposa con Alice Ma stiamo scherzando Ma poi Lollina Gli dà un bacio E si rimettono insieme Per sempre Fine Grazie Era molto molto bella La fantasia Sulla tua storia Grazie mille E grazie per aver visto Questa puntata di Paperissimo Vi ricordo che i nostri video Sono anche sulla posta Di Babu Channel E sono anche nel canale Mega Wow Correte a vedere l'ultimo video Perché abbiamo aperto Delle bambole stupende E mi raccomando Iscrivetevi a questo canale E anche agli altri In cui trovate i nostri contenuti Così potrete sempre passare Del tempo in nostra compagnia Vi metto i bollini Dei nostri canali E qualche cosa da vedere dopo E vi dico Come sempre Un bacio a tutti quanti A presto Ciao ciao